Ciao a tutti ragazzi, fra pochi minuti iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ragazzi, apro la chat, mentre aspettiamo qualche minuto che si connettano tutti quanti. Vediamo un attimo se ci siamo, fine giugno. No? Eccoci qua. Allora, rispondiamo subito ad Alessandro, mentre aspettiamo i ragazzi che si connettano. Cosa consigli di fare quando si è in una situazione dove c'è la struttura long, nel lungo periodo in daily, ha raggiunto una domanda importante e ha fatto una piccola reazione, ma nel medio è corto? Allora, troppa confusione Alessandro. Prima cosa, tu devi avere un time frame di bias e una logica strutturale e una logica di esecuzione. Quello che andiamo a vedere stasera è come si costruiscono a tutti gli effetti delle confluenze e come si arriva a una visione d'insieme di mercato. Ok? Poi il modo in cui questo puzzle viene composto, viene personalizzato, su quale asset, con quali orari, quello sta tutto a voi. Ok? Quindi stasera andiamo a chiudere il cerchio della parte di Masterclass Price Action che passa principalmente su tutta la questione riguardante la interpretazione del mercato basata su logiche condizionali. Ovvero, in che modo andiamo ad analizzare il mercato basandoci effettivamente sull'analisi pura della Price Action. Allora, volevo chiederti un dubbio che ho. Volevo cominciare a fare investimenti lungo termine, dice Gaetano, in azioni ed ETF. Mi sono studiato gli asset che metterò nella mia watchlist, ma il punto è che essendo che io voglio holdarli, come posso strutturare il mio... Allora, già se vuoi holdarli, non è un piano di trading, è un piano di investimento. Sono due cose differenti. Non mischiare investimenti e speculazione perché non c'entrano niente. Devo crearmi una checklist e in seguito andrò a fare backtest. Allora, backtest se hai un buy and hold, che backtest vuoi fare? Guarda le performance dell'asset. Quindi direi di fare così Gaetano, cioè basati sulle performance storiche dell'asset, un rendimento annualizzato e il potenziale di crescita del settore. Cioè se prendi un ETF World è un conto, se prendi un ETF Cyber Security è un altro. Guardati il potenziale di crescita del settore Cyber Security. Ti prendi un ETF che replica l'ingegneria genetica sui suoi principali 25 esponenti. Quindi studiate l'ingegneria genetica, cerca di capire quali sono i trend, cerca di capire a livello geopolitico come sono divise le azioni che compongono l'ETF di riferimento. Sono tutte americane? Sono americane e cinesi. Come funziona? Quindi vai a studiar bene quella parte. E i fondamentali, tra l'altro, dipende dai ETF ai ETF. Vedendo i prossimi candidati alle presidenziali degli Stati Uniti, uno è criminale e l'altro è rimbambito. La guerra sembra ovvia. Non la penso pienamente così. Non mi espongo politicamente. Diciamo che sì, uno è un imprenditore. Bisogna vedere quali sono le accuse che vengono mosse, fondate, quali è una campagna di sovversione politica. E l'altro sì, è un anziano. È un anziano che soffre di una malattia neurodegenerativa, si perde nel giardino di casa sua. Quindi sì, siamo un po' nei casini. L'America è un po' nei casini, ma di conseguenza anche l'Italia, che è un suo satellite militare. Research paper di Enrico su analisi volumetrica che vi ho usato l'anno scorso. Sì, sta dentro il gruppo, l'avevo messo diverso tempo fa. Spiegava qual è la correlazione diretta fra volumi e prezzo. Perché? Vi spiego perché. Ma ragazzi, mi date uno in chat. Provate uno in chat. Ok, ok. Allora. Domanda. È mai capitato a qualcuno di voi di dire, io faccio trading con i volumi, qual è la valenza dei volumi? Voi sapete come si dimostra la valenza dei volumi? Cioè, quali sono i cenni storici che noi abbiamo che i volumi sono un driver di prezzo a corto range? Ci sono dei paper di ricerca. Se vi interessa questo format, cioè se vi interessa avere un metodo scientifico di approccio al trading, questa è una cosa che voglio portare io. Metodo scientifico di approccio. Più che scientifico è matematico e con procedura statistica di approccio al trading. Allora, questa parte qua include una serie di ragionamenti e dimostrazioni che passano per i paper di ricerca. Allora, perché dopo anni io continuo a pensare che le logiche di analisi dei prezzi pure e le logiche di analisi dei volumi siano i driver principali di prezzo e siano qualcosa che funziona veramente bene? Perché ho studiato tutti i paper a supporto, ce ne sono tanti sull'order flow. Se vi interessa, ragazzi, buttatelo in chat. Noi facciamo una live dove andiamo a dimostrare passo passo che l'order flow ha un vantaggio statistico sull'influenza del prezzo di breve termine. Lo andiamo a dimostrare con i numeri, lo andiamo a dimostrare con dei research paper universitari e andiamo a vedere come i volumi, sia gli eseguiti, sia il limit order book, ha un effetto diretto sulla movimentazione dei prezzi a breve termine e a medio termine. Ok? Questa parte qua è fondamentale per quando una persona decide di scegliere uno strumento. Cioè, se io vi dicessi, mi date un research paper sull'RSI? Allora, prima cosa, l'RSI è un indicatore lagging rispetto al prezzo. Cioè, è un derivato del prezzo che si basa ad un offset, una serie di candele e va a darci una interpretazione del prezzo racchiuso dentro due bande. Ok? Al contrario, l'analisi volumetrica e l'analisi dei prezzi, ma l'analisi statistica soprattutto, hanno una parte di ricerca fondamentale. Ok? Cioè, se io vi andassi a dimostrare, ragazzi, matematicamente, con dati, ok? Quindi andando a prendere 100.000 sample dell'S&P degli ultimi anni, andando a vedere qual è l'influenza diretta dei volumi sull'S&P 500 e il prezzo come si è mosso successivamente, è un concetto che vi interesserebbe o troppo tecnico. Perché quando uno sceglie la propria tipologia di analisi che vuole fare, è molto importante capire sia come il prezzo reagisce a questa cosa, il prezzo è l'effetto, sia come i volumi impattano direttamente. Quindi sicuramente sarà un format che porteremo. E tra l'altro, l'idea mia era di occuparci l'estate, agosto, perché io continuo a fare live banca d'agosto, non mi interessa, ragazzi, che è estate, e poi chi vuole partecipare partecipa. E l'idea mia era prendere delle credenze comuni e andarle a smontare, cioè partire con dei video research paper sulla fallacia dell'analisi tecnica, ma l'analisi tecnica non intendo il prezzo, ma intendo le figure che sono puramente discrezionali, che portano il trader ad avere una non replicabilità dei setup, ok? E, oltre a questa cosa, andare a guardare come funzionano le strategie, ad esempio, di edging su correlazione, o strategie di spread trading su metalli, o andare a dimostrare qual è il vantaggio statistico dei volumi. Quindi questi sono tutti approcci che io vorrei portare. Questa qua è la parte interessante, cioè andare a dimostrare tramite metodo scientifico come i mercati si muovono, ok? E da cosa sono influenzati realmente. Quindi perché i volumi hanno una valenza? Andiamo a capirlo. Allora, questo è l'asset che abbiamo visto settimana scorsa, è Nasdaq sull'H4, e avevamo visto proprio come per logica condizionale l'asset era molto probabile che trovasse un punto di bilanciamento sulle due demand principali che vanno a sostenere questo livello di prezzo, ok? Le due demand principali sono prima demand, che è questa qua, e poi questa demand era già stata mitigata, quindi questa zona di domanda, da questo movimento, ok? Ora, che cosa è successo? Che cosa mi aspetto da Nasdaq? Che vi faccio un'analisi completa in modo tale che voi capite bene perché le logiche condizionali, quando soprattutto una persona va a fare analisi volumetri, analisi del prezzo, diventano molto importanti. Allora, prima cosa che voglio passarvi in queste live, e che secondo me è importante che voi costruiate, imparare ad avere una narrativa, un dialogo interno, ok? Quindi iniziare a ragionare effettivamente, soprattutto se volete essere dei trader discrezionali, su quello che sta succedendo. E io vi porto una narrativa che non è interpretabile sul prezzo, cioè vi vado a leggere semplicemente l'analisi multi-time frame, ok? Quindi buttate uno in chat che partiamo, andiamo a vedere dal weekly fino in time frame H1, ok? Qual è la logica sequenziale di Nasdaq? In modo tale che se io lo faccio su Nasdaq, voi siete in grado di... Oggi possiamo fare Nasdaq, Gold e Crude Oil. In modo tale che voi siete in grado di andare a costruire, anche BTC se volete, una rappresentazione completa di quello che sta facendo il prezzo e andare a capire come ragiono io a un mercato, ok? Allora, intanto questa qua non è la mia operatività cardine. La mia operatività cardine è lo scalping, quindi io sono un trader con un'alta frequenza operativa vado a lavorare tipicamente su time frame inferiori. Ma questa diventa una cosa molto interessante perché i time frame superiori ci danno la bussola per chi vuole poi tenere per meglio l'uno termine, ok? Allora, prima cosa, innegabile, inopinabile, siamo in una struttura rialzista sostenuta da una demanda originaria che il prezzo ancora non è tornato a testare che è la demanda del 18.891. Quindi il prezzo ha molto spazio, eventualmente, per tornare all'interno di questa demanda. Quindi io mi segno il primo box dal weekly verde perché questa è la zona che supporta l'ultima esplosione di prezzo weekly, ok? E quindi il mio settimanale è un mercato long, è un mercato bull che ha un'ampia probabilità di continuation, ok? Quindi questa qua è la situazione che io vado a guardare dal weekly come se vado in precedenza che cosa vado a vedere? Vado a vedere che questa qua è la demanda precedente che è la demanda sulla quale ha reggito il prezzo. Quindi mi vado a prendere tutta la fascia di ritracciamento che è una zona enorme sul weekly per questo è importante andare poi a rifinire le zone e a sua volta questa zona è appoggiata sulla demanda precedente. Quindi c'è tutta una logica che già abbiamo visto precedentemente. Quindi noi sappiamo che il weekly è long. Perfetto. Andiamo sul daily. Che cosa vediamo dal daily, ragazzi? Allora dal daily vediamo che già questa zona è stata parzialmente mitigata da un'altra demanda che noi dal weekly non vedevamo. E io solitamente dal daily le vado a riempire. Quindi una volta che ho identificato il weekly e il long le demanda più importanti daily le vado a riempire, le faccio di un colore differente. Quindi già noi abbiamo un'informazione importante. Allora l'informazione è la seguente. Se io qua sto costruendo un ritracciamento, quindi il mercato ha trovato una barriera di rialzo sul quale sta ridistribuendo e questa ridistribuzione è già iniziata, io già mi trovo con un target probabilistico che so dove può essere. Cioè, se il mercato mi fa cedere questo qua, non riusciamo a fare un breakout long e qui torniamo sotto e questa zona cede, io so già che questa zona di prezzo al cedimento ha una logica di distribuzione con una probabilità molto molto alta di tutti questi punti. E questo qua sul daily, ragazzi, è veramente tanta, è tanta informazione, tanto movimento che io possa avere nel caso in cui abbiamo un cedimento di questa struttura. Adesso scendiamo sull'H4 e continuiamo a costruire il nostro scenario probabilistico. Weekly long, daily long. H4, analizziamo H4. Allora, su H4 io mi trovo una supply, scusate, una demand, che è stata rispettata in precedenza e che è stata indebolita da questo movimento. Ok? Quindi abbiamo avuto esplosione, test, test, esplosione, test. Quindi che cosa mi ha comunicato il mercato qui? Mi ha comunicato che dopo la reazione su questa zona lui ha provato a far cedere i massimi di riferimento. Il problema è che la supply, quindi l'aggressione sell contenuta all'interno di questa inefficienza ha surclassato per ora la demand costruita, quindi la pressione di acquisto. E quello che noi vediamo, io qua vi vado a spiegare diverse volte quanto è importante la regressione lineare, perché la regressione lineare ci dà un'informazione del canale all'interno del quale il prezzo si sta contenendo. Al cedimento di questo canale, dopo una reazione di questa zona, il mercato è molto propenso a visitare quest'area decisionale, perché questa è un'area decisionale, e se quest'area decisionale c'è devi guardare dall'H4 quanto spazio c'è per andarsene giù. Quindi queste logiche mi permettono poi di costruire la mia operazione. Facciamo caso, io qua dentro che cosa vedo? Vi faccio vedere anche sul time frame più basso, no? Qua dentro che cosa vedo? Io vado a vedere un mercato che mi ha fatto un'ultima movimentazione di alcista da qua dentro, ve le faccio gialle le zone interne, ok? Rottura di struttura, quindi cosa è successo qua dentro? Che da questa supply noi abbiamo generato un movimento ribassista che sull'H4 ci ha cambiato struttura, ok? Quindi l'H4 da qua ha generato un movimento reversal che ha cambiato struttura. Quello che noto dal prezzo qua dentro è che il prezzo sale, mi va a validare la rottura di questo livello, non riesce, rientra dentro la regressione lineare e adesso sta tirando giù. E' molto probabile questo movimento si protrarrà per settimana prossima, ok? Perché si protrarrà per settimana prossima? Perché dovranno andare a rivalidare questo livello che ha fatto la terza reazione ma che non è riuscito a rompere. Quindi tutta questa logica mi permette di andare a ragionare sul comportamento di Nasdaq su tre time frame di cui uno è lungo termine, uno è intermedio, uno è H4 e questa cosa posso continuare a farla. Cioè, se sono un perfezionista e io voglio andare qua dentro, ok? Quindi ho visto che l'H4 mi ha fatto questo cedimento ve la rendo semplicissima. Mi segno il livello dal quale il mercato ha fatto il cedimento che è questa zona qua. E io ho un dubbio e questo l'ho spiegato diverse volte. Questo è il movimento che mi ha cambiato struttura, ok? Dove posso andare a visitare all'interno di questo movimento, soprattutto a livello probabilistico, le inefficienze di prezzo non lasciando spazio all'interpretazione? Quindi basandomi su qualcosa che è di completa visualizzazione e dominio pubblico, mi prendo il fixed che io utilizzo moltissimo e vado a vedere praticamente nella zona di supply, che è quella che noi abbiamo visto qua, quindi da qua a qua, mi vado a vedere all'interno della supply quali sono le situazioni dove io ho un vuoto volumetrico. Se io mi metto qua dentro, io questo l'ho spiegato diverse volte, ragazzi, di dominio pubblico su YouTube, ormai lo utilizzo da diversi anni e funziona veramente bene. Se io studio questa price action e vado a vedere dentro, io mi trovo questo picco, poi mi trovo questo picco che è il più basso, poi mi trovo quest'altro sopra, quindi sono in grado di evidenziare qua dentro esattamente le due zone a volumi più bassi, una e due. Queste fungono molto spesso da reazioni, in questo caso loro vanno a darci un'informazione di dove è la zona probabilistica di reazione del prezzo. Ora, queste cose voi vedrete che si rispecchiano, vediamo se riesco a farvi un esempio a lungo termine, si rispecchiano anche per il lungo termine. Vediamo, prendiamo ad esempio il weekly, prendiamo il weekly e andiamo a prenderci, è un movimento bello esplosivo, ma anche questo, anche questa candela. Quindi io mi prendo il box, me lo faccio verde e mi segno il 22 aprile. Vado sul daily, questo è il settimanale, scusate. Praticamente questo primo movimento è quello che mi è andata a generare la movimentazione. Se io questo lo scompongo di movimento, cioè prendo lo swing singolo, prendo il singolo swing, lo scompongo andando sui time frame inferiori. Prendo sempre lo stesso swing di riferimento, ok? E di questo swing mi vado a vedere con il fixed qual è la zona con il vuoto volumetrico più ampio. Io zoom qua dentro e che cosa vedo? Vedo che senza ombra di dubbio uno e due sono le zone. Questo ragazzi è come si legge realmente la pre-section. Questo è come si crea una narrativa discrezionale, quindi interpretabile, su come potete andare a ragionare sulle logiche dei prezzi. Cancello tutto, non mi serve più. Cioè, se io aspetto un ritracciamento, da dove me lo aspetto? Qua dentro. Ok? Quindi qua dentro mi trovo in una condizione dove sono all'interno di una demand, ma soprattutto questa demand mi ha lasciato due livelli di vuoto volumetrico. Guardate, non guardate solo la reazione qua sotto, guardate come rispetta religiosamente queste due zone, fino a che non le valida, richiede il permesso, non viene accettato, e prendiamolo anche. Ci siamo ragazzi uno in chat? Sì, sì, Carlo, sono le zone a basso volume sono delle zone molto valide. Voi testatela questa cosa. Io vi porto ad avere sempre un approccio scientifico, soprattutto al giorno d'oggi, dove tutti hanno la soluzione magica, ok? Tutti vi danno il modo per guadagnare facile. Io vi faccio il contrario, cioè io vi dico, prendete quello che vi spiego, che è quello che utilizzo io, prendetelo con le pinze, portatelo a casa gratuitamente e testatelo, ok? Quindi vi beccate una cosa gratuita, avete modo di testarlo e avete modo e vedrete che tornerete e dire, cavolo funziona. Perché? Perché quella è la natura del mercato, perché il mercato per logica di market making torna a ribilanciare i vuoti volumetrici e quando torna a ribilanciare i vuoti volumetrici dà molto spesso una reazione. Quindi attenzione, io non vi sto dicendo che sono zone infallibili, vi sto dicendo che sette volte su dieci quando prendete la bias giusta vi reagisce lì sopra. ok? Vi reagisce lì sopra. Andiamo avanti. Passiamo ad un altro asset e facciamo la stessa identica procedura. Andiamo su weekly e ci mettiamo adesso su gold. eccoci qua. Allora, gold ha una struttura che inizia ad essere più debole rispetto a prima per il rialzo. Perché? Vi spiego immediatamente perché. Allora, se voi andate a notare qua dentro la wick dell'ultimo impulso contiene al suo interno la wick del nuovo tentativo di rottura. Ok? Quindi, in questo caso, noi abbiamo un massimo settato sul settimanale, quindi pensate alla valenza di queste logiche, una situazione di riaccumulo qua dentro, ma la situazione di riaccumulo non riceve il permesso dal massimo settimanale di alcune settimane precedenti per passare. Quindi il mercato non riceve accettazione. Quindi, ragionando di narrativa, quello che accade è che il 2430 non è accettato dagli operatori e quindi si tende a vendere. Questo è un livello di vendita. Ok? Fino a prova contraria. Al contrario, quello che vado a notare io è che questo livello lo sostengono nonostante non l'hanno accettato, lo sostengono meglio. Quindi quello che inizio a vedere è che soprattutto basandomi sulle reazioni che vedo sulla supply settimanale che gold rifiuta con particolare costanza, mi fanno pensare su base settimanale a un gold che possa cercare una distribuzione. Ok? Quindi mi fanno pensare a un gold che possa avere una pressione direzionale short di rottura del movimento di riferimento ok? Che inizia a indebolirsi sempre più e quello che vado a notare che va a validare la mia ipotesi sono due informazioni. La prima informazione è che gold ha dato una reazione religiosa su questa supply. La seconda informazione è che gold ha avuto un'aggressione short molto forte dal top cioè è arrivato sul top ha rifiutato e ha accelerato notevolmente. Guardate l'entità delle candele sell contro quelle buy. Quindi in questo caso noi abbiamo due informazioni che attenzione non vuol dire che gold vada a short ma a livello probabilistico mi fa pensare questo. Poi gold non è il mio asset io faccio Nasdaq però in questo caso vedo un momentum short forte e vado a vedere anche una struttura indebolita long ok? Perché è innegabile che sia long la struttura ma sequenzialmente ha un cedimento di questa quindi se questa settimana tira giù e testa questa è una situazione che può avvedere un ribilanciamento tutto al pari di Nasdaq ci siamo ragazzi uno in chat c'è un ragazzo che dice che non si sente bene ma in realtà a me funziona tutto dovrebbe sentirsi dovrebbe andare bene la chat è aperta verso i relatori quindi io vedo tutto ok si sente benissimo ora la stessa logica condizionale noi ce la andiamo a portare anche su USOIL andiamo su USOIL che cosa andiamo a vedere qua dentro partiamo dal weekly facciamo lo stesso ragionamento weekly anche su USOIL allora questa è la struttura più complicata perché è una struttura più complicata perché vediamo una supply che porta il movimento qua dentro ok abbiamo una condizione di rottura struttura della zona precedente qua dentro quindi vediamo un cedimento di questa condizione vediamo un mercato che sul settimanale ha dato una bellissima reazione qua dentro ma vediamo al contempo che è una struttura ok è una struttura in compressione che cosa vuol dire in compressione che sul settimanale siamo chiusi non siamo in price discovery come sta facendo Nasdaq o come sta facendo gold ma siamo in una struttura di compressione quindi noi abbiamo questi due margini operativi sui quali fare ping pong sul settimanale siamo chiusi all'interno di questi due zone ok se io scendo di time frame e dico sai che voglio ottimizzare ancora di più voglio andare a capire meglio quello che sta succedendo e qua il mercato ti viene facilmente in aiuto perché vedi che quando noi ci avviciniamo a queste zone le zone non mitigate vengono molto spesso chiuse da week e il mercato parte chiuse da week e il mercato parte qual era l'unica zona che non era stata chiusa ma che ha lasciato in efficienza era questa mercato si appoggia tranquillamente qua sopra e si è fatto un rally notevole fino a dove per ora fino all'unica inefficienza non mitigata ok questa mitigata questa qua questa era l'unica supply con un mercato esplosivo ribassista che non era stato mitigato quindi anche questa condizione che noi vediamo da questa logica non è stata ancora non è non è stata ancora violata ok quindi questo che vediamo noi qua è un'inefficienza una condizione di potenziale distribuzione questo per chi segue le live da un po' di tempo è una logica di wolf sul daily ma soprattutto che cosa potrebbe vedere un crude oil in questo caso un crude oil se va a cedere l'impalcatura rialzista che trova qua sotto ok quindi tutta questa zona di supporto se vede un cedimento crude oil può vedere un ribilanciamento anche prematuro prima di arrivare sulla zona alta fino a questa zona qua ok la stessa logica vale se invece il mercato continua a mantenere una struttura rialzista cioè se i buyers continuano ad accelerare e cedono qual è il livello potenziale che possiamo andare a revisitare è l'origine del movimento sell quindi l'86 e 12 ok in questo caso la logica che io vado a utilizzare è sempre quella di scaling dei time frame vi faccio un esempio se io facciamo finta che io ho qualificato questa zona qua sotto e voglio entrare voglio entrare magari da un time frame più basso quindi voglio fare l'h1 quello che vado a cercare quando faccio per attività più lungo termine da time frame inferiori è una logica di cedimento strutturale nella direzione che mi interessa cioè allora andiamo a capire cancello tutto qua tanto sappiamo che è questa zona vado a ragionare di dominio allora questa supply che cosa mi crea questa supply mi crea un cedimento sell che poi viene ampliata a questa supply ok quindi io sono sell da dove? da questa zona perfetto poi cosa succede? che il mercato da qua mi crea un'altra supply e mi fa un impulso sell e da qua settiamo il minimo benissimo ok ma io qua non so ancora che è il minimo non so ancora che è il minimo successivamente il mercato mi riconferma questo minimo provando a bucarlo ma fa un massimo un minimo scusate superiore torna sulla supply e prova a fare vedete quello che vi spiego quando provano ad accettare ma non ce la fanno e fanno minimi che sono sequenzialmente più alti il mercato sta in realtà in fase di ricumulo ok fino al momento in cui quando è che io la conferma che il mercato ha cambiato le strutture sul mio time frame di esecuzione da questa rottura questa è una rottura totale che io vedo e questo qua è un potenziale trade purtroppo non fillava questa inefficienza ma il mercato mi crea prontamente un'altra struttura e questa invece la fillava questo qua è un potenziale trade o una persona conservativa se lo mette sotto l'impulso ma comunque questo è un potenziale trade ok che paga notevolmente a favore di struttura perché questo qua paga veramente tanto ok una persona che magari invece cercava un'entrata sniper su chiusura di inefficienza qua dentro su chiusura di inefficienza qua sotto c'era talmente tanta potenzialità rialzista e pressione rialzista che purtroppo qua lui se ne rimaneva a piedi c'è qualche altro asset che volete guardare ragazzi qualcuno vuole guardare l'euro dollaro la sterlina così continuiamo a fare questa analisi a tante persone euro dollaro Nasdaq l'abbiamo fatto all'inizio allora facciamo dai euro dollaro e btc continuiamo con la logica sequenziale di analisi vabbè btc ragazzi che c'è da dire btc ha una struttura long term prettamente long ok con un riaccumulo su questa zona e vi dico io vi ho detto lo so che darà fastidio a molte persone questa cosa ma io sto sperando che questa demand ceda ok perché sto sperando che questa demanda ceda perché se il btc mi va a ribilanciare il 53.000 o addirittura la zona di origine di impulsività quindi queste qua che sono tutte zone non mitigate io compro bene perché io faccio investimento lungo termine su btc quindi compro veramente bene quindi ho una parte speculativa che mi dice spera di no perché comunque ti trovi sullo short term in perdita ma la parte da investitore mi dice speriamo di sì perché in bull market dandoti un discount su un livello tecnico come questo come questo ti rende bene ok quindi qualcosa che mi interessa mi interessa particolarmente ma poi è la stessa logica sequenziale che vi ho spiegato no cioè mercato da qua mi crea un impulso ok prova a romperlo cede prova a romperlo cede cioè sequenzialmente più bassi e questi qua sequenzialmente più bassi vedete week week molto probabile che questo arriva qua con la week e forse da qua vediamo una ripartenza tra l'altro ragionando per supply e demand più basse quindi se noi ci andiamo sul daily su btc che cosa vediamo che vediamo che la supply che ha creato il massimo di riferimento ok è la supply che sta mantenendo poi la struttura e l'ultimo baluardo che può ottenere btc all'interno della zona è questa demanda al cedimento di questa demanda c'è un bel voto volumetrico dai 56.367 fino ai 52.270 quindi quasi quasi 3.000 euro di prezzistica di btc di discrepanza fra la prossima demanda quindi qua dentro vedendo anche l'aggressione giornaliera che hanno avuto secondo me a questa zona gli fanno male sì ma ragazzi nasdaq e btc sono estremamente correlati quindi è una struttura molto similare a nasdaq ovviamente sono correlati ragazzi sono due asset speculativi andiamo sull'ultimo andiamo su il weekly di euro dollaro euro dollaro ragazzi detto sinceramente è un asset che a me non piace tradare cioè perché dovrei scegliere un asset che mi entra in compressione per mesi e mesi e mesi e mesi quando ho il beneficio di un asset trend following come il nasdaq o di un asset trend following come il crude oil che mi danno una struttura molto più pulita qua dentro mi trovo con un euro dollaro sempre più in compressione ormai da quanto siamo in compressione da 2023 siamo chiusi con una predisposizione che non è il settimanale ma il daily che è short perché è short ora ve lo spiego allora partiamo dal settimanale e vi spiego perché è short sul settimanale allora qua dentro noi abbiamo avuto due supply la prima supply è sostenduta da questo livello la seconda supply è questa intera zona che ha creato il nuovo minimo ok quindi da qua noi abbiamo fatto un cedimento strutturale benissimo questa supply hanno provato a bucarla non hanno accettato a ridistribuita addirittura con gap quindi è molto probabile che noi andiamo a prenderci questo minimo di riferimento ok il punto però qual è è che qua per questo non mi piace la struttura dell'euro dollaro adesso è che siamo su una demanda importante ok siamo sempre più vicini alla demanda importante qualcuno potrebbe dire eh vabbè ma siamo su una demanda importante ma abbiamo reagito alla supply sì ma non sei in trend sei in compressione quindi è molto probabile che il comportamento dell'euro dollaro sia di ping pong fra queste zone per ancora chissà quanto motivazione per la quale io non lo tocco adesso l'euro dollaro non mi interessa minimamente come asset in questo momento ok se qua dentro noi vediamo il daily di cosa ci rendiamo conto ci rendiamo conto che il daily è short senza dubbio ma la struttura diventa sempre più debole vedete che comportamento ha rottura ritracciamento rottura ritracciamento che poi rottura è tutto in accettazione parziale week su week su week su week discendenti ma mercato molto debole ok quindi questi sono asset come l'euro dollaro che preferisco non lavorare perché preferisco non andare a lavorare su questi asset perché di natura sono abituato ad asset con un'escursione direzionale molto forte come il nasdaq e il mio tempo voglio spenderlo al meglio quindi preferisco andarmi a prendere gli asset con un vantaggio statistico direzionale più alto il consolidamento asset di consolidamento funzionano molto bene per coloro che hanno strategia min reverting quindi persone che vanno a lavorare di ritracciamento quindi magari che cercano di comprare i minimi o cercano di vendere i massimi cercano di stare dentro il range di chiudere il fair value non di persone che costruiscono le posizioni long term o short term o scalping su asset estremamente direzionali che ti possono fare anche un'esplosione ok ragazzi come sempre io spero che queste masterclass gratuite che continueranno ovviamente siano apprezzate noi ci vediamo settimana prossima dove oltre a continuare con la parte di research paper e analisi dei dati andiamo ad aggiungere un tassello a questa tipologia di analisi che è la logica di potenzialità direzionale sui time frame più alti quindi prendiamo il weekly e il daily e andiamo a vedere soprattutto come si sono comportati questi asset in base alle logiche della settimana successiva perché uno dei format che vorrei portare il 2025 è un format nuovo vediamo se raggiungiamo il quorum delle richieste è sempre gratuito è che la live del venerdì fa anche una parte di charting swing cioè la live viene composta di 40 minuti di masterclass e 20 minuti di analisi per la settimana successiva gratuita per la parte swing quindi dove vi spiego quali sono le mie interpretazioni per la settimana successiva daily weekly quali sono gli asset che sto monitorando per tutti coloro che vogliono fare swing trading a me non costa niente vado a condividere le mie idee poi se c'è qualcuno che vuole prendere spunto per le proprie analisi ben venga ragazzi come sempre grazie mille del supporto anche d'estate più di 300 persone connesse buon weekend a tutti buon trading ci vediamo settimana prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti